questa volta da alta fedeltà il punto vendita a calco in provincia di lecco mi sono davvero divertito il punto vendita è molto grande e al primo piano ci sono già due sale una più piccola che non vedete in questo video ed ecco invece la sala nuova quella grande scelta per far ascoltare le nuove 801 d4 l'attuale ammiraglia di bowers e wilkins in una delle finiture più riuscite all'interno di un sistema con il trittico pre più finali classe sorgenti digitali marans e nime e una serie di elementi produttivi per mostrare alcune chicche costruttive dei nuovi diffusori con una rampa di scale si accede al piano inferiore particolarmente ricco di sale d'ascolto che sono ben 6 per un totale di ben 8 sale complessive quello che vedete è carmelo ed è il responsabile della eccellente calibrazione del sistema con la nuova serie 700 s3 di bowers e wilkins mosse dalla coppia di marans av 10 ed amp 10 che vedremo tra poco prima di arrivare nella sala cinema giusto uno sguardo ad alcune delle altre salette del punto vendita quasi tutte tempestate di bowers e wilkins con amplificazione marans e nime ed ecco infine la sala cinema perfetta al massimo per cinque persone a sessione ma che ne ha accolte purtroppo o per fortuna dipende dai punti di vista molte di più davanti ai lati ci sono le 702 d3 con driver rinnovati e un cabinet molto più snello chissà come sarà la scena in stereofonia pura tra i due sub a sinistra un bowers da 10 pollici a destra un 12 pollici di definitive technology c'è il sorprendente centrale htm 71 s3 l'elemento che mi ha sorpreso di più come surround abbiamo le 704 s3 e dietro ci sono le 705 s2 un po più larghe vedete e sopra c'è infine il proiettore laser epson ls 11000 nel mobile porta elettronica ecco il nuovo pre marans avv 10 da 15 canali più 4 subwoofer e subito sotto il poderoso finale amp 10 da 16 canali come sorgente il raven x200 ed ora giusto un paio di commenti dal pubblico 8 e mezza sessione 8 e 30 io mi metto qualche così almeno sono tutti i puristi qua ragazzi ho sbaglio no sì certo la dinamica in certi brani era veramente incredibile soprattutto è in 007 devo dire che forse il pezzo che conoscevo meglio ecco diciamo quindi avevo più riferimento allora qua davanti la scena beh il centrale fa tutto lui in pratica si sentono le casse laterali forse il di dietro mancava un po' e sì voi siete un po' più avanti e avete tre dietro che vi coprivano magari si sentono meno però la scena è grande centrale è bello vero si io ascolto soprattutto musica più che film perché poi le immagini non ho un video un televisore però la musica mi piace e rende tanto sì questo è il vantaggio che uno può usare un impianto del genere anche un due canali sì magari così larghi no come dicevi no no così no dipende dalla sala che hai sì 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 vabbè qui era difficile non era possibile spostare anche i parasau sì sono vicini per pietro